Un taglio del nastro ancora più significativo perché vede crescere un servizio sanitario essenziale nel territorio e perché è intitolato a un professionista che ha dedicato la sua vita al servizio, all'assistenza e alla salute degli altri. Sono stati inaugurati presso il presidio ospedaliero di Gubbio Gualdotadino i nuovi locali ristrutturati del pronto soccorso e la nuova sede distrettuale delle cure palliative territoriali. Una giornata che sancisce il raggiungimento di uno degli obiettivi compresi all'interno del vasto progetto accoglienza. Il nuovo pronto soccorso è stato dedicato al responsabile, da poco prematuramente scomparso, il dottor Corrado Cancellotti, secondo i voleri della direzione aziendale. Cancellotti aveva fortemente voluto e progettato la nuova riorganizzazione insieme alla direzione medica di presidio e agli operatori del pronto soccorso, ha ricordato il direttore generale della USLO 1 Andrea Casciari, affiancato nel corso della presentazione all'auditorium dell'ospedale di Branca, dall'assessore regionale Barberini, dai sindaci di Gubbio e Gualdo, stirati e presciutti e dalla presidente dell'Ailc, Orietta Migliarini. Presenti anche i familiari, la moglie e le figlie del dottor Cancellotti. Con questa operazione, è stato detto, vengono riorganizzati i processi assistenziali e organizzativi che hanno permesso un miglioramento dell'accoglienza e un maggior rispetto della privacy nel pronto soccorso, oltre che un'ottimizzazione dei tempi di attesa e dei comfort, con la creazione di due sale d'aspetto, una per dedicare spazio ai barellati e l'altra per l'osservazione diretta dei codici più gravi. Inoltre è stata rivisitata la segnaletica sia interna che esterna e allestita una stanza multidisciplinare per garantire un percorso separato dei pazienti infetti o con patologie psichiatriche, ma anche per avviare la gestione del cosiddetto codice rosa. Sul fronte dei dati, l'attività 2016 del pronto soccorso evidenzia che il 70% degli accessi sono codici bianchi o verdi, meno di un terzo sono i più gravi, codici rossi, in crescita del 6%. Incrementati di circa il 4% i pazienti dall'apertura della nuova viabilità per Perugia, provenienti soprattutto da Valfabbrica, Pianello e zone Ponti. Interessanti anche i dati sulle uscite delle ambulanze, sono state 2450 dal presidio di Branca e ben 1250, di media 3 al giorno, dall'ex ospedale di Gubbio. Inaugurata all'esterno del nosocomio anche la nuova sede delle cure palliative territoriali, situata al piano terra del casale annesso al presidio ospedaliero e affidata a un'equip attualmente composta da personale dipendente ASL, 5 infermieri, un medico e da personale messo a disposizione dall'associazione AELC, due medici, un infermiere, uno psicologo e un fisioterapista. La storia delle cure palliative nel territorio dell'Alto Chiascio e del resto era partita fin dal 1992 con l'equip territoriale di Gubbio e Guallotanino grazie alla disponibilità di medici operanti nelle strutture ospedaliere e delle associazioni di volontariato proprio con l'associazione Eugubina per la lotta contro il cancro. La prossimità con le degenze ospedaliere, è stato detto, faciliterà l'integrazione delle attività tra ospedale e territorio nella gestione di difficili percorsi diagnostici e terapeutici sia per i pazienti ricoverati che per quelli trattati.